però tutti quelli che si chiamano mod sono forti scusa quindi sono figliati mia no no e se lui ti dice no no io non sono bello ieri ieri c'era un ragazzo sulla chart che si chiamava stai muto no e mi ha salutato no e dopo un tot si sente si sente milico che fa ma lele ma sei tu stai muto e lele fa sì noi faccio no è impossibile che lele perché sennò non mi salutava non mi diceva bella nando cioè ieri si sono smentiti anche sul fatto che loro si sono creati 20 30 account per iscriversi al canale di mirko c'è mirko ieri ha detto tipo mirko fatti un altro account è già ce ne ho 29 che sono iscritti a questo canale qua momento crea un trentesimo no cioè ha fatto tutti si iscritti che aumentano sono loro che creano in sempre i nuovi account puoi avere anche gli iscritti che vuoi ma se le visualizzazioni like non salgono è appunto è quello il problema c'è al cinquecento cinquecento cosi e porto io c'ha ma come come ha fatto a danneggiarmi da qua lui 500 iscritti porto dio ea ea due visualizzazioni per video ma maxi non sta giocando è in fk no vedi clà quando fai i kinder falli senza latte perché così è meglio ora salta ora salta in che senso salta ma hai saltato tu ora salta ora salta pensa che tu lo mi behemoth e noi sappiamo che si dice così i ragazzi dell'altra volta hanno detto che si dice bimoth e neanche behemoth faccio mamma mia oh l'hanno stornato l'avete stornato tutti sulla coda eh tu siete tutti fissati nella coda si è tirato si è tirato nella coda eh gliel'ho tirato anch'io però non il laserone sta tirando un botto di rovi questo che ci sta a scassare il cazzo oh 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 occhi di gatto oh oh occhi del cazzo occhi del gatto ecco il nome del trio compatto di gesù cristo che t'ha fatto un torto ottio sentissimo vai entragli dentro il tornato tanto si può certo da lì lo stonni io poi non lo so eccolo ecco qua solo claudio riesce a stunnarlo no anch'io con le granate non è molto difficile eh sì con le granate però è difficile sto a dirlo quando fai yoga no vabbè c'ho le granate a concussione che servono presto a dire il beemoth il beemoth non so neanche io come cazzo chiamarlo più beye come è fra un po e lo chiamano come ha detto claudio l'altra volta il bayamoth il bayamoth è il panama ma che cazzo è buono è buono il panama è buono mi piace anche a me oh ma è possibile io vado avanti indietro lui mi segue guardalo qua guardalo qua guardalo qua puttana va preso vi ha preso in tre va pre no in due va preso oddio ho fatto un liscissimo dai se li ha animato che c'ho l'abilità io puoi animare meglio figlio di tutta dopo l'invita nel partito insulti e magari è inglese e mi prende perché odio sto qua mi prende dalla in fondo un giusto gioco fatto al contrario cioè io ho tirato un botto di danni sembrava che gli avessi fatto un tristassi ma infatti mi hai fatto buttare una granata concussione sia perché troppo lento a buttare granate cioè boh sta lì pure più alla mira caspiti la mira c'è lì davanti lo state continuamente strommando in testa e lo state continuamente strommando buono senti la presa la coda ho presa io però 710 ho tolto si salve ma per una volta ma scappa via mi sa mi ha usato la stamina ma ha preso lo stesso sono detto basta usare del dedato non funziona tu non lo usi ma scappa via allora mi sa no l'avete gli avete dato qualcosa c'è la claudio vicino la pallina spina spina vitale ma è morto è morto e si sa fosse un po più difficile con l'eroe che l'eroico di denabo ma era eroico sì ma cinque minuti ho sempre detto che ti sei